BAU! E' proprio un BAU! Un boffo kind! E' di qua dove ando in là! E' Francesco! Dovete andare così! E! E' il suo! Poi dopo! Anna passa! Aspetta! Oh! Ah, lei! Fa' Francesco! E' perchè i cazzini non ne tengo! E' una sicurezza! Me ne sono ammolta al posto! Non si è andata il posto! E' stata bella la stanza! Mamma mia! Fai la grazia! No, è bella! Stavo tutta sudata, non saliva il pantalone! Grazia! Il pantalone! E' io muro il pantalone! La tua? Non saliva la poteva lì, ma ha chiuso la lampola! Ah, non si chiedeva di fare una lampola! E' io! Mi ha incassato tutte cose! Come va a sbendere così? Aspetta, calma mamma, dame la macchina di qua! E' un pantalone! Stavo facendo sempre i problemi da fuori! E' un pantalone! E' un pantalone! Ci spavano i roti! E' un pantalone! Ma proprio il pantalone! Ti ricordi? E' un pantalone! Non si! Ah, non si! Non si! E' un pantalone! E' un pantalone! Le cose che si scoprono! Mangia un fatti! Mi mangio pure la tua! E' vero quello! E' vero quello! E' vero quello che c'è? Eeeeh! E' vero! E' vero che chi dice! Nooo! Stai proprio in un passi piccolo di calcio eh! Era la tensione! Bambista! Bambista! Vincanetta, pizza, eccolo qua. Eeeh, bravo, bravo. Nel pieteolo, nel pieteolo, nel pieteolo, nel pieteolo, nel pieteolo. Bastardo nel pietone, nel pieteolo. Campino, io senti, hai io i denti? Ti ricordi, hai io i denti? Stavo chiamando a cattolto. Bene, mamma. Sì, salto in bocca, sì, che vuoi vedi qua. Sì, salto in bocca, non hai già più colore. Non hai lo portato nuovo? Giù, vedi, comincia a mangiare. Allora sei contento, chiedo, padre? Questa è la mozzarella, è buonissima. Mi dò la mozzarella da quando hanno parlato i bambini, Adrenalina. Ah, grazie. Ma la mente di un lato, mi senti, quando si guardava in più, mi sentivano le bambini. La cosa di bravi, papi. Quindi Silvano è bravino. Bravino. No, ma io guardavo. Non lo guardare, non lo guardare. Non lo guardare, non lo guardare. Non lo guardare, non lo guardare. Sì, io da tu. Ma le punti. Prendi la cosa, va bene. Io non ho ordinato, però non lo so. Mi sono i pomodori, non lo togliete. Stavolta è stata buona. Ma non sono la macchina. Non lo stava in giro. Non le mai dire. Buono. E tu, finalmente, ho variasi, ti stai giusto, buono, caldo. Non mi sono in giusto buono. Ma come sei carino con i bambini? Ma che una volta è pianta. E Fida quel primo giro non volevi farlo eh, quel primo giro non volevi farlo. Ah, questo è il mio. E c'è? Facciamo così? No, no, no. E' piaciuto, no. Adesso basta. Mi hai rinclamato? Mi hai rinclamato? Come la devo togliere? Mi hai rinclamato? Mi hai rinclamato? Mi hai rinclamato? Mi hai rinclamato? Adesso mi hai rinclamato bene. C'è il prosciutto la mia madre? Ma vedi che sta? Ha detto, andello, ma guarda, stai qua lì stai con la madre. Ma me l'ha corta. No, l'assaggio, ma me l'ha corta, no eh. E me lo vado poco corto. Mi hai rinclamato? No, ma potevo rinclamato. Non c'era troppo caldo. Ci voleva una mola per i capelli. Ho invidiato Mario in quel momento. E a me qua sfruttavo, sembrava la fontana di te. Tantania… Vosante di Mario giustina. Oh no, oh no! Oh no, oh no, oh no! Ok, ok, oh no, questo va proprio bene il sentito! È giù! Non capisco! È bello! Stiamo d'accordo! Guarda che Simone sempre è scemo, eh, ma quello è... Simone, se l'anno prossimo non ci sei tu, chiudo per una decina di giorni la palestra per l'ultimo. Simone, guarda che se non ci fossi bisognerebbe inventare. Purtroppo, da ottobre dove inizia a risegnare un momento? Eh, non lo saprete fino alla fine di ottobre. Mamma mia, non lo so. Forse è qui. Non lo so. Ragazzi, che vuoi fare? Non lo conosco. Sì, che un po' fa un ascolato. No, che vogliono fare tutti quanti. Parla la pacea, non mi direi capito. Parla la pacea? Anche sono io o un'altra. O un altro. Ilaria? È andata bene? Sì, sono andata benissimo. Ma mica a giugno chiudono la palestra, la palestra è la tua. L'altro giudono luglio e agosto, sui due mesi. Dov'è? O ti raggiungeranno? Mamma mia. Bella collina. Cioè, non c'è il palacone nessuno. Collina? No, so con Francesca. Io non so. Ma, inizia avrei la parola. Due piani. Due piani. Ma mentre guardate l'acqua. Non so. Voglio vedere quella figura di Salta. Ahia! Non ce l'hai più! ah! sono andato un altro su alta vita non ho cercato un vero capito? io me ne vado lì no ma io non so quei tipi di madre rosa mi stai nero io a Gerloa come del tec, del tec pure fa male lo sai perché mi ha giunto, ma io non mi stia lì e ora mi stia lì fa una caccia che cintura eh lì non sa quel tipo Ora c'è una cosa in un'idea, una delle conseguenze non mi piace. Sì, con l'impatto che si è. Ma va bene. Ma il lavoro, guarda. Cioè, non c'è una cosa in unico nella corso e in un uomo. Cioè, di unifica, di massaggio. non danno e poi un'ora e lì è fatta nell'acqua bravo se hai fatto una foto oggi troppo bene lo so che non però io lo faccio sempre a fine di bene anche i papi ah sì, mi ricordo quando è stato per me è un po' di dolce, non posso per me è un po' di dolce come il pitticotto sul culo come quel bel pitticotto con la pacca di ministra con la linguetta da fuoco guarda il culo che stava a dire è bello, non lo so culo stava con un teletro, no? allora sapevo che non esisteva perché stava a dire non c'è culo lì ho cercato, non ce l'hai proprio non ce l'hai, allora ho fatto mmm come è uscito il bel, poi te la mando domani no, 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 no